cari amici fan dei 17 re desidero dedicare questo video a tutti voi che sostenete diego pavanello spero che ci vedremo presto e così insomma saluto diego e dedico a lui in questo video perché non sono potuto andare alla serata di moncelice e mi dispiace molto in quanto è stata rinviata però diego ti penso sempre e comunque ci vedremo sicuramente magari nell'anno 21 se non capiti prima in zona un bacione a te a tutti i tuoi fan e mi raccomando continua a seguirmi nelle mie dirette facebook ciao diego un abbraccio a presto